Come si tratterebbe la cura? Non siamo mai uniti contro un virus, dovremmo cercare di approfittare secondo me di questo momento, di questa situazione per unirci non solo contro qualche cosa, ma a favore di qualche cosa. Allora io credo che noi dobbiamo individuare degli obiettivi che ci possano accomunare e non solo la salute può esserlo, non solo l'economia, ma riportare al centro la persona, riportare al centro le persone. Il ruolo della dimensione umana in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede e l'economia ha preso sempre più piede, ma sempre più verso il mondo della finanza. Noi dobbiamo riportare l'economia nelle mani delle persone, aumentare come diceva ieri Roger Abranel, la produttività per aumentare la reddittività. La produttività dell'uomo che lavora e produce e quindi per produrre nel migliore dei modi dobbiamo avere capacità da sviluppare. Allora, in tutto questo c'è una figura nel nostro mondo di cui si è parlato tanto in questi ultimi anni, ma che ancora se ne parla secondo me in maniera un po' superficiale, cioè riportare la donna al centro, riportare la donna in un momento come questo, in cui noi abbiamo bisogno di cura, il ruolo della donna che è inclusiva, di accoglienza, di cura può essere prioritario. Allora, sull'Alessandro, la prima domanda è, in una fase in cui la cura è importante e l'economia è strategica, quale può essere il ruolo della donna? Cominciamo con le domande difficili subito. E poi andiamo in discesa. Innanzitutto vorrei ringraziare, sono molto felice di essere qui questa sera, di aver potuto ricavare questo momento nella mia città, che è la città che appunto mi ha vista crescere fino a un certo punto della mia vita e poi c'è stato altro. Però io sono sempre grata e riconoscente per le mie origini e chi mi conosce lo sa. Ringrazio tutti i presenti. Non mi aspettavo di trovare qui, oltre ad amici, parenti, conoscenti, pubblico, anche una porzione. Sembra di stare a Roma, nel senso che abbiamo tra annunzi, religiosi, un vescovo che è venuto a farci visita. Grazie Monsignor Torrentino, grazie Eccellenza, Mauro. Abbiamo visto che è una persona molto alla mano, quindi mi permetto anche una certa confidenza con il Nunzio, i Salesiani, i Francescani. Quindi siamo in una porzione di chiesa universale ed è molto bello, oltre che con la cittadinanza. Non possiamo non ricordare, permettetemi anche oggi, so che Vasto sta soffrendo anche per un lutto, per un ragazzo guido, giovane, morto per una fatalità. E sappiamo che la morte ci interroga sempre, ma quando sono giovani ci lascia con più punti interrogativi, ma credo anche ci fa interrogare sul senso della vita e sul dono della vita e su come viverla al meglio. E quindi magari facciamo un momento di silenzio per ricordarlo e per ricordare i propri cari. Bene, rispondo alla domanda adesso. Cura, economia, donne. Cosa c'è in comune tra queste parole e di che cosa abbiamo bisogno oggi? Soprattutto con quello che abbiamo visto a partire dalla pandemia. A partire dalla pandemia ci siamo accorti che il bisogno di cura e di prenderci cura gli uni degli altri è vitale, definisce anche, è essenziale per l'essere umano e per le nostre relazioni. Una delle lezioni che il Covid ci ha insegnato, credo almeno qui in Italia, è che abbiamo saputo fermarci. Abbiamo messo tutto da parte per poterci prendere cura delle persone, per poter salvare vita. E quindi, grazie a questa esperienza, abbiamo forse compreso sulla nostra pelle quanto è importante potersi prendere cura gli uni degli altri. Il tema è che abbiamo scoperto anche attraverso il Covid che non basta affidare la cura alla famiglia, al privato e per molto troppo tempo il tema della cura è stato affidato proprio perché al privato, poi alle donne. E invece abbiamo capito che tutti abbiamo bisogno di cura, ma tutti siamo in grado di offrire cura, di prenderci cura gli uni degli altri. E quindi il Covid ci ha fatto anche capire che la cura, il prendersi cura, è un qualcosa che non può essere semplicemente affidato al privato, alla sfera privata, non al privato in senso alla sfera privata, quindi semplicemente dentro la famiglia, ma è un qualcosa che è un compito di tutta la società. Un proverbio africano recita che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, cioè un intero villaggio che si deve strutturare per potersi prendere cura dei piccoli, delle persone nel loro percorso di vita, degli anziani, di quando si attraversano momenti di malattia e tanto altro. E allora perché sia tutto un villaggio, cioè tutta la società che riesca a prendersi cura, anche l'economia deve essere strutturata per questo. Perché non può funzionare il prendersi cura come società, come insieme, se poi viviamo l'economia come l'economia della massimizzazione, della minimizzazione dei costi e questo nelle aziende diventa un non aver cura dei tempi e dei ritmi delle persone, ma non possono essere solo le aziende che se ne occupano, ci deve essere una struttura che permette questo. E perché le donne sono importanti in questo momento? Perché sappiamo che naturalmente le donne hanno per istinto, per biologia, una marcia in più nel sapersi prendere cura. Il punto è che se il sapersi prendere cura è una caratteristica che ci rende più umani, più persone, non può essere una caratteristica appunto di cui si devono occupare solo le donne. Ed è per questo che dovremmo ristrutturarci per permettere a tutti di potersi prendere cura. E non è semplicemente un tema legato a congedi parentali o asili o servizi, è un qualcosa dentro di noi, dentro la cultura che deve cambiare. E qui vorrei venire a una proposta che è stata avanzata da una filosofa canadese, Jennifer Nedelsky, la quale, appunto, riflettendo sul fatto che il prendersi cura è qualcosa che ci rende più persone, lei dice dovremmo biasimare socialmente le persone che dicono non ho tempo neanche di stirarmi una camicia o non ho tempo di poter leggere una favola a un bambino, di poter far compagnia ad un anziano, perché devo lavorare troppo, perché siamo abituati a ritmi dove bisogna dare sempre il massimo. Lei dice se la cura è importante per tutti, ci definisce anche come persone, così come il lavoro è un elemento che dà dignità alle persone e lo sappiamo, allora lei dice dovremmo ristrutturare i tempi del lavoro e i tempi della cura per permettere a tutti di lavorare e prendersi cura. E qual è la sua proposta? La sua proposta è che quello che oggi è il lavoro full time, perché quello che noi associamo ad un full time è un qualcosa di socialmente costituito, è cambiato nel corso della storia, può continuare a cambiare, le 40 ore settimanali che sono per l'Italia, perché se poi andiamo in giro per il mondo vediamo che le norme sono anche diverse, è un qualcosa che come società ci siamo dati. Lei dice quello che oggi è considerato il part time dovrebbe diventare il nuovo full time in una società che si ristruttura per questo e le ore che si liberano diventano ore in cui quasi per contratto le persone devono occuparsi di cura. Come oggi lo sono le ferie, oggi abbiamo diritto alle ferie, ma anche dovere, perché se non le prendiamo le ferie ce le dobbiamo recuperare, perché abbiamo riconosciuto che è importante poter avere momenti di sosta. Lei dice dovremmo riuscire come società a renderci conto che è importante dedicare ore, tempo al prendersi cura. Che vuol dire? Che ci sono dei momenti nell'arco della vita e della famiglia in cui la cura deve essere prestata dentro la propria famiglia, quando ci sono bambini, anziani. Ma il resto del tempo questa cura può essere messa a disposizione del quartiere, della città, ci si può organizzare per questo se la riteniamo un'attività importante. Non la cura professionale, di cui continueremo sempre ad aver bisogno, ma quelle attività di cura che tutti possono fare, tutti possono imparare. Lei dice sogno una società, un mondo in cui, dopo la prima domanda che facciamo a una persona che di solito è come ti chiami, la seconda domanda di solito è che cosa fai, lei dice sogno un mondo in cui la seconda domanda è non di che cosa ti occupi, ma di chi ti occupi e questo deve definirci. Lei dice nessun lavoro dovrebbe non permettere alle persone di prendersi cura. Ci sono dei lavori in cui bisogna per forza magari portare a termine dei progetti o ci sono un chirurgo che deve operare e che ha... Però poi nell'arco di un anno quel tempo della cura si può recuperare, se lo riteniamo importante. E io credo che oggi abbiamo maturato la consapevolezza, grazie anche all'esperienza del Covid, per poter dire se riteniamo importante il lavoro, ma anche il saperci prendere cura, forse possiamo fare qualcosa per ristrutturarci in questo senso. E sono state fatte, adesso non voglio tediare, con analisi anche macroeconomiche per dire ma poi se diminuiscono le ore di lavoro, ma se tutta la società si ristruttura intorno a questo, diventano altri ritmi e pensiamo quanto si risparmia se non bisogna appaltare la cura e di solito la si appalta sempre a quelle che vengono considerate categorie inferiori. E allora questo contribuisce anche a creare, proprio perché non la valorizziamo alla cura, quella cultura dello scarto per cui lavori che vengono considerati non valorizzati socialmente vengono affidati alle donne o a persone che appunto vengono considerate meno. Se invece recuperassimo il valore del prendersi cura come società, forse potremmo far cambiare questo. E credo che se una lezione dovremmo impararla dal Covid è proprio quella di riuscire a mettere insieme lavoro e cura. E dice Jennifer Nendeschi, i primi, qui mi rivolgo anche al sindaco, che dovrebbero fare esperienza di questo sono le persone che sono in politica, perché non riuscirò mai a fare delle leggi che tengano conto di queste dimensioni se non ho fatto esperienza di questo nella mia vita. Quindi, ritornando alla domanda, uno dei valori aggiunti, un elemento fondamentale che oggi le donne possono portare all'economia è far comprendere a tutti, uomini e donne, l'importanza della cura e di ristrutturare i tempi del lavoro, della cura e dell'economia per poter vivere meglio. Grazie. Andiamo ancora, facciamo un passetto ancora più in là. Quando noi parliamo di relazioni, all'interno delle relazioni noi abbiamo scoperto il tema della reciprocità. Oggi, nel mondo dell'economia, nel mondo delle organizzazioni si parla molto di efficienza. Siccome lei parlava di tempo, le 40 ore, il controllo, per esempio lo smart working ha cominciato a far vedere che c'è bisogno di una maggiore responsabilità e autonomia delle persone, perché tu non puoi controllare le persone come lavorano a casa. Ma se si aumenta il livello della, adesso dico una parola importante, se si aumenta il livello della fiducia, le persone non hanno bisogno di essere controllate come le macchine, perché le persone hanno la capacità di pensare e la capacità di essere coinvolte. Allora noi dobbiamo arrivare al punto di coinvolgere le persone, di coinvolgere la loro attenzione, di coinvolgere la loro partecipazione. E qui ritorno sul tema degli obiettivi. Noi che lavoriamo con le aziende, le organizzazioni, diciamo alle persone, non esistono persone demotivate, che tu devi motivare, esistono persone che hanno obiettivi poco motivanti. E quindi tu leader, tu capo, tu organizzatore, tu a capo di un'organizzazione, devi cercare di coinvolgere sugli obiettivi organizzativi aziendali i tuoi collaboratori. Perché se c'è il coinvolgimento, c'è la partecipazione, ci saranno meno errori, meno distrazioni, meno assenteismo, meno malattia, e allora dalle 40 ore si può passare anche alle 35. Perché quelle 5 ore che tu abboni, le guadagni il doppio, in rendimento, in efficacia, in partecipazione. Allora c'è il tema della reciprocità e non dell'efficienza fine a se stesso, come stava dicendo lei prima. C'è bisogno di una maggiore attenzione, ma grazie a un maggiore coinvolgimento. E allora come possiamo noi, società civile, lei giustamente ha detto la politica, ma la politica la esprimiamo noi. Allora che cosa manca oggi? Qual è l'anello di congiunzione che manca per avvicinare di più le persone fra di loro e le persone alle istituzioni? Perché abbiamo visto che c'è una mancanza di fiducia, si va a votare sempre di meno, e c'è questa crisi della rappresentanza. Che cosa manca? Perché le persone ritornino a crederci, a credere l'uno nell'altro, perché io mi devo prendere cura. Di chi ti occupi? È bellissima questa frase. Di chi ti occupi? Non di che cosa ti occupi. Prendiamolo come esempio, ma qual è quel gradino che non riusciamo a fare? Qui ci sarebbe tanto da dire, però mi occuperò della mia parte, che è quella che conosco meglio, che è quella economica. Io credo che una grande parte, nel clima anche che ci troviamo a vivere, anche dentro le organizzazioni, adesso lo stiamo capendo, dipende da quel pessimismo antropologico che è al cuore e alle radici di un certo modo di fare economia e di pensare le organizzazioni. C'è il premio Nobel donna, Elinor Armstrong, la prima donna ad aver ricevuto un premio Nobel in economia, che si è occupata della gestione dei beni comuni, gestione collettiva dei beni comuni. Lei ha dimostrato che nella gestione dei beni comuni, molte volte la cooperazione spontanea funziona meglio di sistemi che cercano di regolare, per dirla in sintesi. Nella lezione che ha tenuto nel discorso all'assegnazione del Nobel, lei ha detto questo, dice noi abbiamo progettato istituzioni e organizzazioni pensate e basate sul fatto che crediamo che le persone sono scansa fatiche, se possono non lavorano e quindi le nostre istituzioni sono state progettate pensando che gli interessi, gli obiettivi di chi deve lavorare e collaborare sono disallineati con chi deve invece portare verso, e quindi chi dirige le aziende, e quindi dice in qualche modo abbiamo fatto venire fuori la parte peggiore degli esseri umani. Lei dice sogno, non sogno, dovremmo pensare, progettare istituzioni che partono invece dall'assunto che le persone hanno desiderio di collaborare, hanno desiderio di dare il meglio, che non c'è motivo se non dipendente da un contesto anche esterno e a volte coercitivo per non dare il meglio di sé anche sul lavoro. Se noi ripartissimo da qui forse riusciamo a ricreare quel collante anche sociale. Dirò di più questo pessimismo antropologico che è stato alla base anche di una certa cultura delle organizzazioni, organizzazioni del secolo scorso dove l'obiettivo era quello di molte volte produzione e si tratta di fabbriche, il fordismo, cioè il dover produrre, produrre in maniera efficiente. Cosa si è pensato? Che controlli e incentivi fossero gli strumenti per poter far funzionare le cose. In realtà ci siamo accorti che nella maggior parte dei casi non funzionano e soprattutto oggi quando ci sono lavori che chiedono la testa, il cuore delle persone, controlli e incentivi possono essere demotivanti e avere effetti contrari. Ci sono fiori di studi e di esperimenti su questo tema che quando devo coinvolgere la parte più importante delle persone i controlli e gli incentivi non bastano. Faccio alcuni esempi. In una riorganizzazione di aziende sanitarie in Francia dove a causa di una riorganizzazione si è raccolto molto malessere nell'organizzazione e sono state fatte delle azioni, delle indagini per capire come risolvere. E sono state raccolte tantissime interviste. e una l'esempio di una signora addetta alle pulizie lei dice io ho sempre fatto bene il mio lavoro ho sempre cercato di togliere la polvere dalle parti più nascoste dove non si vede ho sempre cercato di far bene nessuno se ne è mai accorto. Allora mi sono un po' stancata e ho cominciato a lavorare come gli altri. qualche giorno dopo avevo una lettera di richiamo perché si erano accorti che qualcosa non funzionava. C'è un autore francese che si occupa di queste cose adesso mi sfugge il nome ha scritto un libro Donnet e Prandr sulla cooperazione dentro le organizzazioni e lui dice i nostri sistemi che vogliono cercare l'efficienza in nome di una razionalizzazione e di un'efficienza hanno stabilito tutta una serie di controlli per vedere quello che non funziona non ci si rende conto di quello che invece funziona che molte volte è il lavoro invisibile perché pensate tutti quelli che hanno a che fare con organizzazioni che devono andare avanti pensate all'organizzazione di questo evento se questo evento funziona questa sera si è andato tutto liscio perché c'è stato tanto lavoro che è invisibile che nessuno ha visto quel lavoro si vede solo nel momento in cui qualcosa non va e allora si va a cercare la persona responsabile ma se quella persona ha lavorato bene noi non ci accorgiamo di niente e neanche la ringraziamo allora basterebbe cambiare un po' questi meccanismi per cui partire dalla riconoscenza cioè riconoscere ed essere grati per il lavoro delle persone per poter davvero andare a cogliere la parte migliore delle persone ma questo non si può fare strumentalmente perché uno potrebbe anche decidere che adesso diventa una regola ma si capisce quando le cose sono fatte motivate intrinsecamente o perché anche questo diventa un obiettivo aziendale se so che le persone stanno meglio se faccio complimenti e dico grazie comincio a dire grazie ma non ci credo ci si accorge ci vuole è un'arte quella della gestione anche dentro le organizzazioni e l'altro tema è quello quindi controlli che sono demotivanti e molte volte vengono percepiti come non ci vogliono lasciare in pace le mosche vengono percepiti come una mancanza di fiducia nei confronti delle persone e allora anche qui sono stati fatti tanti esperimenti tanti studi che fanno vedere come quando si pongono degli incentivi perché perché vengono dati gli incentivi molte volte perché si voglia far lavorare di più le persone quando c'è da mettere in campo motivazioni intrinseche gli incentivi possono addirittura scoraggiare le persone più motivate perché pensano se mi devi pagare in più per quel pezzetto in più perché pensi che non sono in grado di farlo e allora e tutto questo crea malessere dentro le organizzazioni abbiamo quindi forse bisogno di recuperare questo credere nella positività delle persone è vero che se mi fido delle persone la mia fiducia può essere tradita ma il punto è quale tipo di organizzazione di economia di società io desidero quella in cui c'è il rischio che qualcuno se ne approfitti ma la fiducia proprio perché fiducia che non può essere controllata se poi ripagata crea sistemi che funzionano bene e che fanno star bene le persone o per paura che la fiducia venga tradita crea un clima di controllo dove fisso gli obiettivi e se non vengono rispettati e premio solo quando vengono rispettati eccetera e tutto questo non mi permette di vedere la parte migliore delle persone e parlando di incentivi e controlli è anche stato dimostrato che nelle organizzazioni se si razionalizza troppo quello che viene a mancare poi è il genio la creatività e se manca il genio la creatività mi privo anche di una possibilità di migliorare le organizzazioni ma questo in tutto dai lavori più semplici a quelli che richiedono più più lavoro di testa o che devono essere veramente creativi perché bisogna inventare e produrre cose nuove abbiamo bisogno di credere nelle persone abbiamo bisogno di credere e abbiamo bisogno di valorizzare le persone a partire dal contributo che le persone danno al lavoro alla società alla comunità quindi dobbiamo ritornare a valorizzare il merito come ha giustamente accennato con un'immagine molto chiara noi cogliamo le cose quando non funzionano ma non ci accorgiamo delle cose che vanno bene noi da quando siamo bambini abbiamo ricevuto sempre siamo sempre stati spronati a fare di più e c'è un'educazione una tendenza a dover superare un limite che va bene finché quel limite è alla nostra portata e siamo accompagnati per mano in maniera come dire non giudicante perché altrimenti i messaggi trasversali che riceviamo tu non vai bene così perché se devi sempre fare di più tu non vai bene così allora ci sono tutta una serie di spinte che sii perfetto sforzati sii forte eccetera eccetera che fanno sì che le persone non si sentano accettate per come sono che invece è il primo elemento perché noi esseri umani trasformiamo la realtà attraverso il lavoro ma che prima deve essere accettata per quella che è quindi noi dobbiamo accettare le persone per quello che sono e poi accompagnarle a migliorarle allora noi dobbiamo valorizzare il merito che è intelligenza più impegno abbiamo visto anche ieri sera il merito è intelligenza più impegno quindi dobbiamo valorizzare quell'impegno dobbiamo valorizzare quelle persone che fanno la differenza ma come diceva giustamente dobbiamo affidare a quella persona a quelle persone la nostra fiducia con il rischio che possa essere tradita questo rischio c'è in tutte cioè la vita è scelta e ogni scelta porta un rischio quindi noi dobbiamo sempre accettare una componente di rischio non di pericolo ma di rischio perché il rischio è abbastanza calcolabile diminuisce l'impatto del rischio se c'è una catena di valore cioè se noi tutti comunità come diceva il proverbio africano ci vuole un intero villaggio per crescere un paese se noi tutti ci facessimo carico della crescita di ognuno e creassimo dei contesti dalla famiglia alla città passando per le organizzazioni le aziende e tutti i soggetti che intervengono sulla comunità facessimo in modo non di giudicare e puntare il dito su ciò che non funziona ma valorizzare ciò che funziona quindi accompagnare le persone anche a sbagliare ma a imparare e a fare di più non solo per sé ma per gli altri non solo per oggi ma per domani per quello che succederà domani alle prossime generazioni noi abbiamo ridotto il tempo di investimento cioè il concetto è sempre come nelle aziende la trimestrale a breve termine trimestre massimo semestre massimo fine anno non riusciamo a pensare a 4 anni a 5 anni a fare un progetto lo vediamo spesso nella politica i governi non arrivano a fine mandato a fine legislatura perché questo? e allora ritornare a creare una catena di valore fra le persone qualche cosa che noi dobbiamo accettare il rischio di dare fiducia alle persone e di metterle alla prova e di sperimentare perché se io ho la certezza che mi posso fidare di una persona lì non ci vuole fiducia non c'è non c'è rischio io devo dare alle persone la possibilità di crescere poi noi abbiamo troppe regole troppi cavilli perché non ci fidiamo ma poi fatta la regola ha trovato l'inganno e allora viviamo in una società come si diceva ieri fatta anche nelle imprese il capitalismo familista non familiare familista come diceva Banfield il familismo amorale lo fanno tutti lo faccio pure io vado ai miei interessi perché se non lo faccio io lo fanno gli altri io rimango indietro e allora ritorniamo a questo tema della catena di valore nelle relazioni nella reciprocità e permettetemi di dire lo dico io non lo dite voi nella gratuità grazie non aggiungerei molto perché mi sembra importante mi sembra questo il punto vorrei dire che su questo tema forse abbiamo bisogno di di cambiare anche qui abbiamo bisogno di una conversione a livello culturale e sociale in che senso l'abbiamo visto con la pandemia ma l'avevamo cominciato a capire anche prima della pandemia e la sezione di cui nel di Cassero per lo sviluppo umano integrale mi occupo è quella dell'economia ma anche dell'ecologia con il compito di portarle avanti insieme e mi sembra un po' profetico perché perché abbiamo capito tutti che se andiamo avanti così come stiamo andando avanti non non ci sarà molto futuro e questo non è semplicemente una questione di è una questione di rispetto della terra del pianeta dei suoi limiti ma questo rispetto noi sappiamo nella Laudato Si questa enciclica scritta ormai sei anni fa da Papa Francesco che adesso comincia anche ad essere messa in pratica ci è voluto un po' per essere conosciuta per il messaggio fondamentale è tutto è connesso e poi abbiamo un'altra enciclica dello scorso anno siamo tutti connessi la Fratelli Tutti quello è il messaggio di questa enciclica e il che vuol dire che forse abbiamo bisogno di cambiare il modo in cui pensiamo all'economia sicuramente perché abbiamo visto che viviamo in un'epoca in cui l'economia in qualche modo e poi una finanza quando diventa finanza per la finanza diventa la fada padrona e non è quello che dovrebbe essere economia oicos nomos vuol dire cura e gestione della casa dove per casa possiamo intendere le mura domestiche ma anche il pianeta che ci ospita la nostra casa comune e se pensiamo ad un'economia che sia uno strumento per poter vivere tutti meglio e poterci curare prendere cura anche della casa comune forse ci sono dei concetti da cambiare ma concetti che poi diventano anche temi legati a questa catena di valore mi spiego meglio chi mi conosce sa che la cito sempre quest'altra economista Kate Raworth che ha scritto un libro intitolato l'economia della ciambella o di Donuts Economics lei sostiene questo che quello che ha fatto diventare l'economia la regina delle scienze sociali è la semplicità con cui descrive i modelli noi con un grafico riusciamo a vedere tutto e questo ha fatto in modo che strumenti economici venissero applicati anche a situazioni non economiche perché con un grafico era facile spiegare tante cose per cui le funzioni di utilità nel momento in cui io studiavo e facevo il dottorato mi sono imbattuta in vari articoli pubblicati sulle più grandi riviste economiche a livello mondiale dove penso anche dei premi Nobel Gary Becker le funzioni di utilità vengono utilizzate non solo per parlare di produzione di scelte di panieri e di beni ma anche scelta del partner o la massimizzazione intertemporale dell'utilità utilizzata anche per spiegare perché bisogna educare i figli alla generosità perché perché poi quando sarò anziano questo mi ritorna quindi pensate a come una logica viene esportata al di fuori del suo ambito e come può diventare pervasiva ed è diventata pervasiva noi viviamo di queste logiche oggi allora Ketraor dice se vogliamo cambiare questo dobbiamo cambiare i grafici cominciamo dai grafici e quindi lei dice fino adesso noi ci siamo rappresentati l'economia sugli assi cartesiani e sappiamo che cosa che in un grafico di questo genere buono è sempre verso destra buono è verso l'alto immaginatevi il grafico la freccia che sale andiamo verso lei dice forse dovremmo comprendere che invece buono è riuscire a stare in un equilibrio un equilibrio che riesca a rispettare i bisogni fondamentali delle persone e a non eccellere i limiti di quello che il pianeta ci offre e quindi lei disegna il sistema economico come una ciambella cioè due cerchi concentrici misurando le varie dimensioni importanti per la nostra vita lei dice dobbiamo riuscire a non stare dentro il buco che vuol dire se per alcune dimensioni siamo nel buco della ciambella vuol dire che non stiamo soddisfacendo i bisogni fondamentali delle persone diritto alla casa diritto al cibo accesso al cibo alla nutrizione e sappiamo cosa sta capitando in questo momento nel mondo anche a causa della pandemia e la fame sta aumentando e Papa Francesco dice la fame è criminale perché non ci spieghiamo perché produciamo cibo per sfamare tre pianeti e poi ci sono persone che ancora muoiono di fame se non mettiamo mano seriamente a questo problema avremo problemi quindi se sono lì vuol dire che devo fare qualcosa per migliorare la mia situazione il cerchio esterno della ciambella è eccedere quello che il pianeta riesce a darci andare oltre se tutti vivessimo per alcune dimensioni oltre il cerchio esterno della ciambella vuol dire che il pianeta non basta e quindi lo scopo è riuscire a rimanere dentro la parte edibile mangiabile della ciambella cambia lo schema il buono non è l'ottimo non è riuscire ad avere sempre di più riuscire a produrre sempre di più ma riuscire a stare in quell'equilibrio garantire quello che va garantito senza eccedere quindi dovrà cambiare anche la matematica dell'economia perché per ora noi in economia usiamo massimizzazioni ottimizzazioni eccetera e ha fatto di più che ha misurato tutti i paesi del mondo secondo queste dimensioni questa volta mettendole sì su un asse cartesiano vedendo il rispetto dei limiti da una parte e la garanzia il diritto ai bisogni l'accesso ai bisogni fondamentali il soddisfacimento dei bisogni fondamentali cosa si accorge che non c'è un paese al mondo che si trova dentro per tutti gli elementi tutte le misurazioni dentro la parte edibile della ciambella e quindi la sua conclusione è siamo tutti paesi in via di sviluppo tutti abbiamo ancora da fare qualcosa per riuscire a vivere in quell'equilibrio che ci permetterà di rispettare il pianeta e di avere una vita buona perché poi è quello che vogliamo garantire ma a tutti non solo ad alcuni questo vuol dire che deve cambiare qualcosa in come intendiamo anche l'economia in quali sono le misure di successo quali sono le misure di successo nel lavoro nell'economia per la società se rivediamo queste noi stiamo portando avanti un progetto in di cassero che si intitola we measure what we treasure cioè misuriamo quello che per noi è importante e quindi cerchiamo di dare valore alle cose che per noi hanno un grande valore e forse dovremmo anche abituarci a misurare in modo diverso sappiamo che tutto il tema degli SDGs degli obiettivi dei goals dei 17 obiettivi che tengono conto di tutte le dimensioni è importante che tutti ci allineiamo lì indica sero proprio per per rendere concreto perché a noi Papa Francesco quando ha istituito anche la commissione Covid in Vaticano ci ha detto preparate il futuro ma fatelo nella concretezza immaginatevi Papa Francesco per favore concretezza e allora abbiamo dato avvio ad un progetto e vi invito tutti ad andarlo a guardare c'è una piattaforma che si chiama la Laudato Si Action Platform cioè la piattaforma di azioni per la Laudato Si per mettere in pratica la Laudato Si e in questa piattaforma tutti si possono iscrivere e è simbolico per noi è una piattaforma che prospetta un piano di azione per sette anni sette sappiamo sono i giorni della creazione sette è un numero biblico importante Laudato Si Action Platform sette anni sette obiettivi sette gruppi di soggetti coinvolti i sette gruppi coinvolti sono le famiglie le parrocchie e le diocesi quindi Assisi deve iscriversi subito alla piattaforma le famiglie le parrocchie le diocesi gli istituti religiosi gli ospedali e i centri di cura tutto il mondo del lavoro dell'economia e delle imprese allora quanti ne ho detti poi se me ne manca qualcuno ne ho detti parrocchie e diocesi ospedali centri educativi scuole tutta la parte formativa istituti religiosi mondo del lavoro e del business organizzazioni movimenti famiglie tutte le famiglie quindi tutti possono in qualche modo iscriversi nel momento in cui si iscrive a seconda della categoria si riceveranno poi dei piani per l'azione e tutto questo verrà monitorato e registrato e quindi potremo mappare nel mondo tutti quelli che stanno lavorando su questi piani che vogliono raggiungere alcuni obiettivi gli obiettivi sono il rispetto del grido della terra per riprendere la laudato sì quindi la risposta al grido della terra e quindi tutte le questioni anche climatiche risposta al grido dei poveri e accompagnare la vita dal suo nascere alla fine in modo che sia dignitosa e quindi azioni per questo per farlo dobbiamo avere stili di vita che quindi ognuno deve stili di vita semplici e rispettosi dell'ambiente della vita delle relazioni delle persone per far tutto questo abbiamo bisogno di un'educazione che sia ecologica e quindi cambiare tutti gli itinerari formativi educativi che cosa vuol dire vivere l'educazione in modo ecologico abbiamo bisogno anche di una economia ecologica e quindi un'economia che sia fatta in un certo modo e abbiamo bisogno anche di una spiritualità ecologica ritornare a celebrare pensate che posto splendido poter guardare contemplare e ringraziare anche di quello che stiamo vivendo celebrare per questo motivo i sette anni gli obiettivi e i sette gruppi i sette anni sono pensati così perché spiritualità ecologica è anche sapersi fermare e rendere grazie e quindi ne abbiamo pensato sei anni di lavoro e il settimo è per celebrare e ringraziare pensiamo se anche nelle organizzazioni nelle aziende nella vita delle persone e delle famiglie si lasciasse tempo prima di andare avanti con programmazioni su programmazioni ad un momento di sosta di guardare indietro ringraziare celebrare fermarsi e poi ripartire sulla base di quello che abbiamo imparato ridare i ritmi al nostro vivere è più che un sogno è una necessità è una necessità se vogliamo dare senso e significato al concetto di tutto è connesso perché non possiamo pensare di vivere ormai isolatamente e il covid ce l'ha dimostrato siamo tutti sotto questo cielo io penso una cosa allora qui entra in gioco un tema che viene proprio fuori dalla relazione con l'altro con la A maiuscola dove l'altro può essere l'ambiente il contesto l'altro il mio vicino di casa il mio collega il mio familiare il mio congiunto e allora viene fuori il concetto di limite una cosa a cui noi non pensiamo quasi mai o meglio il limite a volte lo subiamo oppure lo dimentichiamo ma difficilmente lo gestiamo perché noi passiamo da un concetto di impotenza io insegno all'università vi posso assicurare molti studenti vivono sentimenti di impotenza rispetto a un mondo che sembra non aspettarli un mondo che sembra non avere come dire attesa verso i giovani dei giovani se ne parla ma non si dà voce ai giovani per ascoltarli per riconoscere quello che veramente sono e quello di cui veramente ha bisogno noi parliamo sopra i giovani non con i giovani è un'altra cosa di cui dovremmo perché lei ha citato il concetto di educazione educazione vuol dire educere da latino educere portare fuori portare fuori quello che c'è da ognuno secondo le proprie capacità a ognuno secondo i propri bisogni e questo significa rispetto e un'altra parola insieme al limite che voglio introdurre in questa nostra bellissima riflessione chiacchierata è il tema del bisogno e pensate bisogno vuol dire due volte sogno bisogno uno è il mio uno è il tuo uno è il mio uno è il sogno dell'altro se i nostri sogni si incontrano pensate che che potenza si può generare se invece il mio e il tuo sogno si scontrano allora le nostre forze si annullano reciprocamente noi dobbiamo tornare a far incontrare i nostri sogni anche quando non vengono espressi bisogna trovare il modo di accompagnare le persone a portare fuori il proprio sogno che siano giovani o meno giovani noi stiamo vivendo in una società che invecchia sempre di più oggi ne parlavo con il mio amico Renato che non vedo ma doveva essere qui e dobbiamo pensare a come utilizzare la la capacità l'esperienza degli anziani delle persone che smettono di lavorare ma che non smettono di vivere non smettono di essere produttivi di pensare di trasferire esperienza dobbiamo pensare come utilizzare questa esperienza io con Renato parlavamo stamattina di creare una community dove le persone che hanno una certa maturità possono diventare dei mentori dei tutor noi dobbiamo recuperare questa esperienza perché sennò perdiamo sempre ricominciamo sempre da capo perché tutto si trasferisce vedete dove siamo siamo in un palazzo che non abbiamo costruito noi noi l'abbiamo ereditato noi dobbiamo avere cura è un'altra cosa come la terra ne dobbiamo avere cura ecco allora c'è bisogno di responsabilità sociale di cui le imprese parlano spesso ma forse si occupano poco perché si danno come dire delle facciate di responsabilità sociale si chiama green washing cioè pitturarsi di verde la facciata ma poi nella sostanza non c'è allora bisogna ritornare ad avere il concetto di limite ma anche di crescita come dicevamo all'inizio di questo incontro di creatività di generare nuova vita perché noi siamo come la natura genera vita che genera vita noi dobbiamo avere cura della vita che generiamo dalle opportunità che creiamo tutti noi tutti noi ognuno di noi nessuno si sente escluso da questo concetto il problema è pensare che lo debbano fare gli altri invece lo dobbiamo fare noi questa questa laudato si action platform mi sembra un'idea geniale devo aggiungere qualcosa andiamo avanti all'infinito queste parole mi queste parole mi danno l'occasione di poter parlare di di un'esperienza molto bella perché penso che poi le parole rimangono solo parole se non vengono corredate anche da fatti la concretezza proprio perché qui c'è Monsignor Sorrentino voglio raccontare l'esperienza e l'avventura bellissima che secondo me è paradigmatica che stiamo vivendo con i giovani di Economio Francesco questo sogno che è diventato realtà in una maniera e ci sta crescendo tra le mani in un modo che noi non avremo mai immaginato penso che possa confermare Monsignor Sorrentino nel 2019 Papa Francesco ha scritto una lettera per invitare giovani economisti ed imprenditori ad Assisi per fare un patto per cambiare l'economia attuale dare un'anima all'economia del futuro dicendo voi già state vivendo questo ho bisogno delle vostre proposte fatevi avanti cominciate a mettiamoci insieme ecco il mettersi insieme mettere insieme i sogni può far diventare il sogno una bella realtà e quando era stata pensata questa iniziativa si pensava ad un massimo di 500 giovani una sorta di elite da radunare ad Assisi che diventasse propulsore per il mondo a quella richiesta di Papa Francesco sono arrivate più di 3.000 lettere di richiesta di partecipazione che sono state accuratamente lette viste selezionate perché selezionate perché Assisi dovendo fare l'evento in presenza non poteva accogliere più di 2.000 persone e quindi abbiamo selezionato 2.000 giovani devo dire la verità scartando parecchi giovani italiani perché la maggioranza delle richieste arrivava dall'Italia ma essendo un evento mondiale dovevamo aver cura che fossero tutti rappresentati sono arrivate richieste di giovani a partire dai 12 anni da 120 paesi del mondo i giovani selezionati con l'intento di ritrovarsi ad Assisi avevamo programmato tutto c'era il programma ben stabilito per cui avrebbero dovuto lavorare in 12 villaggi tematici in 3 giornate intense ad Assisi per arrivare poi a fare delle proposte concrete la pandemia ha interrotto tutto questo ma i giovani erano già stati selezionati quindi quello che doveva essere un evento che poi doveva dar luogo a un processo è iniziato come un processo nel senso che ormai i giovani erano lì io ero responsabile di due villaggi poi con il lavoro in Vaticano ho dovuto io mi occupavo del villaggio work and care lavoro e cura e finanza e umanità perché ogni villaggio aveva un nome particolare per mettere insieme due polli che possono sembrare opposti e quindi ci siamo incontrati con i modi che sappiamo durante la pandemia con tutti questi giovani che hanno creato un corpo si sono subito sentiti i giovani di Economio Francesco non è stato possibile fare l'evento in presenza è stato fatto poi a novembre un evento online tutti insieme ma l'entusiasmo dei giovani non è andato mai scemando è andato crescendo e a ottobre essendoci ritrovati tutti in una piattaforma virtuale ad Assisi con i giovani e anche con il Papa che si è reso presente con un videomessaggio i giovani hanno ricevuto l'incarico di continuare a lavorare nei loro villaggi tematici ma di farsi promotori di un'economia diversa dentro i loro territori nei loro territori e questi giovani hanno cominciato quindi a essere connessi in tutto il mondo ma a lavorare lì dove sono per provare a fare qualcosa e stanno diventando un fermento noi nel Di Cassero per qualsiasi cosa facciamo abbiamo un gruppo di giovani di Economio Francesco che si relaziona con noi stiamo lavorando verso il vertice il prevertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari con il villaggio di Agricoltura e Giustizia con quei giovani stiamo lavorando per preparare delle sessioni all'interno del vertice sui temi del cibo della fame dell'agricoltura di come rendere l'agricoltura più giusta sono giovani che non solo hanno idee sono anche capaci di metterle in pratica riescono a fare tutto da soli no al processo di Economio Francesco ecco perché la bellezza anche dell'alleanza tra le generazioni hanno partecipato tanti adulti perché ogni villaggio di 200 giovani aveva i suoi dieci economisti adulti chi erano questi adulti? tra tutti quelli che si sono fatti avanti compreso premi Nobel noi abbiamo chiesto una sola cosa potete lavorare con noi se non venite lì a fare la lezione a mettervi avanti a voler proporre le vostre idee ma se siete lì ad aiutare i giovani a sviluppare queste idee se siete lì disposti a confrontarvi con loro e quindi quelli che ci sono sono entrati in questo spirito e i giovani li cercano quando gli adulti partecipano ai lavori dei villaggi i giovani li varolizzano e che cosa abbiamo visto giovani adulti economisti anche nella fase di pensionamento che hanno ritrovato motivazione ed entusiasmo perché hanno detto se ci sono giovani così vale la pena continuare a giocarsi su queste cose non si perde della speranza e allora ho raccontato questo perché può essere un esempio come dicevo per me paradigmatico di come mettendoci insieme con grandi ideali sogni ma volendo sviluppare azioni concrete dando ai giovani perché Papa Francesco ha fatto questo ha preservato uno spazio per i giovani ma non ha detto fate tutto da soli e quindi i giovani hanno lavorato e stanno lavorando insieme agli adulti e questi giovani che mano a mano stanno entrando anche in posti di lavoro che hanno belle e ottime capacità essendo tutti connessi come una grande rete a livello mondiale pensate che potenza può avere tutto questo per una generazione di economisti che cresce in un certo modo e continuano ad iscriversi perché ormai si è sparsa la voce e non solo adesso io dal mio punto di osservazione indica a zero ogni associazione ogni organizzazione che riceviamo ci chiede di essere messa in contatto con Economio Francesco e quindi abbiamo l'associazione degli imprenditori cattolici a livello mondiale che vuole essere messa in contatto riceviamo le organizzazioni internazionali e ci chiedono ci mettete in contatto con il che vuol dire che ancora non abbiamo visto forse tutto il dispiegarsi di questo processo ma tutto nasce da un Papa che ha il coraggio di fidarsi dei giovani e di lasciarsi trascinare dalla loro carica di entusiasmo ma soprattutto che dà la possibilità di farla esprimere questa carica di entusiasmo è quello che dobbiamo fare perché i giovani hanno la potenza proprio della loro vitalità che si esprime fra i 18 e i 30 anni poi comincerà a scemare però noi questa come società dovremmo utilizzarla allora io volevo fare quasi una domanda a voi io starei ore a parlare qui con Suora Alessandra e mi sembra di non sprecare questo tempo ma di investirlo in una sorta di nutrimento dell'anima e della mente quando invece sento le persone che dicono ma è un convegno è una cosa ma è leggere un libro ma stare a sentire ma no c'è bisogno di evasione io penso vedo in giro a volte tutto questo tentativo di evasione evasione da che cosa si evade da una prigione cioè noi sentiamo il bisogno di evadere da una prigione perché siamo probabilmente imprigionati nelle nostre logiche questi momenti mi sembrano che siano di grande liberazione di grande arricchimento io penso questo voi che ne pensate avete bisogno invece di evasione di perché è questo di cui dobbiamo tornare a occuparci cioè aprire la mente confrontarci con persone che possono darci delle idee degli spunti farci riflettere darci delle suggestioni leggere un libro lì trovate il libro di Suora Alessandra grazie alla nuova libreria di Vasto che li ha procurati sono tutti lì chi vuole leggere io non so io continuerei andrei avanti ditemi voi perché so che c'è che c'è un concerto che ci aspetta che ci accompagnerà nel proseguo della serata fatemi un segno ditemi se siamo contenti e chiudiamo qui chiudiamo in bellezza e ringraziamo Suora Alessandra Smerilli per questo regalo che ci ha fatto a noi di maestri fuori classe e a voi di Vasto e a tutti noi per questa bellissima presenza questa bellissima parola che ci ha regalato grazie sono io che ringrazio voi perché queste occasioni sono sempre arricchenti il dialogo è stato stimolante e vi chiediamo di accompagnarci in questo cammino noi tutti quelli che siamo qui penso che abbiamo desiderio e voglia di davvero di lavorare per un cambiamento questo è un momento particolare stiamo vivendo una fase storica una congiuntura che può essere veramente l'inizio di un cambiamento e io mi chiedo sempre dico saremo ricordati come la generazione che che si è fatta sopraffare dal covid tutte le conseguenze che ne stanno venendo o saremo ricordati come la generazione che in questo momento particolare si è fermata ha saputo ritrovare alcuni punti cardine ed è ripartita in modo diverso preparando un futuro diverso anche per gli altri vorrei che fosse la seconda ma dipende da noi qui e ora grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti